Non è più un ragazzino, classe 1988, quindi sono 37 candeline, ma il suo palmarès non lascia dubbi. Si tratta di un valore aggiunto, aggiunto alla Reier Venezia, che con Pietro Aradori piazza il colpo play-off prima del confronto di esordio della fase finale Scudetto martedì 19 al Tagliercio, contro quella Cantù in cui militava nella scorsa stagione Pietro. Fortemente voluto da cuocere Calcati, Aradori, che ritroverà Thomas Reyes, con cui aveva militato due stagioni a Siena, è una guardia ala di quasi due metri e nella sua carriera ha vinto due Scudetti, tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, nonché un bronzo con la nazionale Under 20. Ascoltiamo le sue impressioni al momento della presentazione Lampo, dopo aver disputato l'ultima gara con gli Studiantes Madrid e già a carico all'idea di poter scendere subito sul parquet Oro Granata. Ho scelto Venezia perché è per la stima che ho verso Charlie, che conosco da tanti anni, perché io ero un giovanissimo e Federico era lumezzane, quindi conosco la persona che è da tanti anni, e per la società solida come la Reie, con un presidente e un imprenditore come Lugnano, io non conosco di persona ma so quanto che persona sia e quindi ho fatto questa scelta perché penso che posso dare un contributo alla squadra, come ha detto Charlie, io sono qui per non togliere niente alla squadra assolutamente, ma cercare di dare qualcosa in più e queste sono state le ragioni della mia scelta e per cui ho deciso di scegliere Venezia.